Vola l'export nel Piacentino soprattutto grazie ai prodotti delle attività manifatturiere e boom di tessile alimentari giù invece ai mezzi di trasporto. Dopo l'expload del 2023 anche nel primo trimestre del 2024 sono dunque in aumento le esportazioni delle imprese piacentine. A marzo 2024 infatti il flusso di beni verso l'estero è aumentato del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, addirittura più 34% rispetto ai dati 2022 per un valore pari a quasi un miliardo e 800 milioni di euro. L'analisi è stata realizzata dall'ufficio studi della camera di commercio dell'Emilia sui dati Istat. Entrando nel dettaglio la domanda estera di manifatturiero piacentino che rappresenta il 99% dell'export di tutta la provincia ha riguardato soprattutto prodotti del tessile abbigliamento per un valore di 615 milioni di euro e un aumento del 35,4%. Buoni risultati anche per il comparto degli alimentari e tabacchi con 166 milioni di euro e un incremento del 12% ai computer e apparecchi elettronici che si sono attestati a 106 milioni. In aumento anche i dati relativi ai macchinari, seconda voce dell'export piacentino, in lieve calo invece l'export di mezzi di trasporto. Il flusso di beni verso i paesi europei ammonta complessivamente a oltre un miliardo e 300 milioni di euro, pari al 73% sul totale dell'export piacentino, mentre verso l'America si indirizzano beni per un valore di 112 milioni di euro, 321 milioni si realizzano invece in Asia, 32 milioni in Africa. Nell'area euro molto evidente la crescita in Francia che occupa il primo posto tra i paesi maggiori importatori di medi in Piacenza.